Qualche giorno fa in un nostro servizio vi abbiamo documentato la situazione di pericolo che vige nella zona del cimitero vecchio di Melito Portosalvo, dove un doppio palo pericolante in cemento armato rischia seriamente di crollare da un momento all'altro. Ebbene, ci sono degli aggiornamenti. A quanto pare, consultando l'albo Pretorio Online del Comune, in data 26 agosto 2016, con l'ordinanza numero 22 dal titolo Rimozione Traliccio Pericolante e Messe in Sicurezza, il sindaco ha accertato, aperte virgolette, che il traliccio in cemento armato costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, chiuse virgolette, e che ricade in un foglio mappale di una particella intestata anche ad una società con sede a Roma che, aperte virgolette, gestisce e valorizza il patrimonio immobiliare, chiuse virgolette, di un noto gruppo energetico italiano, ne ordina la totale rimozione con ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza entro dieci giorni, con effetto dalla data di notifica dell'ordinanza. Dopo oltre due mesi nulla si è mosso, ed anzi, a quanto pare, dopo il nostro servizio, il doppio palo non è stato affatto rimosso, ma anzi, clamorosamente rattoppato nelle parti lesionate. La stessa ordinanza, aperte virgolette, avverte che la mancata esecuzione da parte del proprietario intimato comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso, chiuse virgolette. In poche parole, e per farla più semplice, se la società individuata come proprietaria non provvede a rimuovere il palo nei tempi previsti, è lo stesso comune a rimuoverlo addebitando le spese alla società stessa, ed oltretutto segnalandola all'autorità giudiziaria a norma del codice penale, come abbiamo già detto, dell'articolo 650. Dopo oltre due mesi, quindi, solo qualcosa si è mosso in maniera evidente. Qualcuno, infatti, è andato a rammendare quel doppio palo. La domanda è, il lavoro è stato autorizzato? E se sì, da chi? Ma soprattutto, perché quel palo non è stato ancora rimosso? Le risposte, forse inconsciamente, ce le abbiamo già e purtroppo non ci sorprendono affatto. Ma per il momento preferiamo continuare ad affidarci all'autorità e dalla legge. Perché così si comportano i cittadini per bene e perché così dovrebbero fare tutti. Cittadini, quindi, se e quando andrete al cimitero vecchio a trovare i vostri cari, fate dunque molta attenzione a quel doppio palo alto 7 metri e tenetevene a debita distanza. Ovviamente noi vi terremo sempre sul pezzo e vi aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi.